Ciao ragazzi, sono Nondobu. Adesso sono al ristorante di ramen, ramen di Kyushu, come questo. Zuppa bianca, perché è il brodo di osso di maiale, molto buono. Ma non solo zuppa, ma solo ristorante di ramen di Kyushu, e loro fanno qualche cosa speciale. Prima mangiare. Buon appetito! Iatakimasu! Adesso ho mangiato tutto. Quindi c'è solo il brodo, non c'è ramen. Per vedere, niente. Ma io dico, una cosa. Ma, come è, ordine. Sìません! Kaidama, un po' un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Non è altro piatto. È solo noodles. Perché? Ma questa è una cultura originale di Kyushu. Aspettiamo. Ecco vedi, adesso non c'è. Oggi ho mangiato tutto. Hai, sìません, domo. Vedi? E... Poi mettiamo così. Mangiamo ancora. E poi vedi? Ramen di Kyushu, noodles di Kyushu. È molto molto fino, come cappellini. Molto sottile. Questo è... Tipo di Kyushu. Allora, quando in giappone... Se quando... Quando mangi ramen di tipo Kyushu... Deve dire... Kaidama. Deve ricordare la parola. Molto importante. Ka-e-da-ma. Ok? Ciao ciao! Ciao! Ciao ciao!